Questa mattina a Palazzo della Cultura il Via ha un workshop sulle analisi delle cause di infortunio e del mancato, infortunio organizzato dalla società civita. Spesso si parla appunto di morti bianche, di infortuni sul lavoro, non si parla mai però di mancati, infortuni che dovrebbero essere invece analizzati meglio. Sì, infatti, noi stiamo al momento realizzando due piani formativi specifici sulla sicurezza, uno sul settore del marmo, non qui dalla parte orientale dell'isola ma nel Trapanese a Custonaci dove è presente in grandissima parte questa produzione di perlato siciliano. E' un secondo piano formativo che prende varie aziende, molte nella provincia di Catania, del Nisseno, anche del Trapanese. Tra i temi che abbiamo ritenuto di approfondire, a parte tutto il lavoro sulla sicurezza, quindi come si diceva prima, l'incidente, ahimè incidenti gravi, purtroppo anche incidenti mortali che cambiano la vita di un'azienda, la devastano. C'è tutta questa categoria del mancato incidente, cioè dell'incidente che stava per succedere, che poteva succedere ma che poi non è accaduto. Di fronte a questo l'azienda che atteggiamento assume? Ahimè noi verifichiamo che il più delle volte l'azienda dice sono stata fortunata, questa volta non è accaduto. Ed è l'approccio più sbagliato, perché se un incidente stava per accadere c'è qualcosa che non va bene, non va bene nelle modalità di lavoro, sono delle cause anche remote che magari non vengono sul momento visto. Quindi è una situazione che va analizzata, monitorata e che va poi determinato un sistema di reale controllo, di quelle che possono essere tutti gli incidenti e quindi prevenire l'incidente. Ecco, in questo noi oggi abbiamo un esperto che è il responsabile per l'Associazione Italiana Formatori della sezione Salute e Sicurezza sul Lavoro, che è il dottore Caffiero, col quale poi assieme alle aziende che oggi sono presenti in questo workshop, assieme a anche un rappresentante dell'INAIL di Catania, ai nostri docenti che su questo tema appunto lavorano, stiamo proprio affrontando questo tema e come poi farne un argomento proprio di formazione per le aziende. Quindi prevenire la sicurezza per evitare che l'incidente accada, anche quello che poi non accade. Quindi una prevenzione a 360 gradi.